In una lettera aperta, Fatihah Shakir, vicepresidente della consulta per gli immigrati e figlia della donna musulmana seppellita nei pressi del cimitero di Eboli, ringrazia l'amministrazione di Eboli per aver approvato l'atto di sepoltura della madre. E risponde anche alle critiche sollevate dal senatore Cardiero di Forza Italia. Non è nostra intenzione né competenza, si legge della nota, entrare in questioni di carattere burocratico e politico, ma non possiamo tacere il nostro dispiacere dinanzi alle affermazioni del senatore Franco Cardiello che pur di entrare in polemica con l'amministrazione comunale non si tira indietro nello strumentalizzare la morte di una donna, una moglie, una mamma. La nostra congiunta desiderava semplicemente essere sepolta nella propria città, nel rispetto dei precetti musulmani, ovvero tumulata direttamente nel terreno. E' stato creato un precedente, aggiunto, nella direzione del dialogo e della tolleranza reciproca, che non nuoce a nessuno se non a chi intende oltraggiare una vita umana che termina.